Ad un anno di distanza dagli ultimi saluti ufficiali del magistrato milanese Paolo Fiore, l'attesa per la nomina del nuovo presidente del Tribunale pare stia per concludersi. La nomina potrebbe essere ufficializzata entro i prossimi giorni. Ci sarebbe una proposta condivisa sottoposta al plenum del CSM. Il nome è prescelto e quello del giudice catanese Marisa Cagnino, che ha anche presieduto la sezione civile del Tribunale Etneo. L'attesa di quasi un anno ha fatto molto discutere. Dopo l'addio a Gela e alla Sicilia di Fiore è stata il presidente della sezione penale, il giudice Miriam D'Amore, a guidare il Tribunale seppure in via temporanea. Da mesi si trova anche a gestire l'emergenza sanitaria con Palazzo di Giustizia che nella prima ondata del contagio è rimasto blindato e ancora adesso è sottoposto a misure restrittive anti-Covid. Giovedì è stato necessario disporre un intervento urgente di sanificazione nella struttura che tra gli altri ospita anche gli uffici della Procura. A metà della prossima settimana invece si insedieranno tre nuovi giudici che andranno a rafforzare numericamente l'organico dei decidenti. Tutte nomine che vanno a rafforzare l'organigramma interno a Palazzo di Giustizia che negli anni si è trovato spesso sottodimensionato.